Francesca, naturalmente torneremo da te, che ammalgrata l'attesa è altissima come in tutto il resto del mondo, a Piazza San Pietro adesso, da Fabio Marchese Ragona, ancora vediamo il gabbiano in perterrito sul comignolo, Fabio. Sì, il gabbiano sul comignolo, segno che non c'è stata fumata, a questo punto forse bisognerà aspettare le 19.